Sono ufficialmente iniziate Formula 1 e Superbike, manca ancora la MotoGP che inizierà tra una settimana e il 10 di marzo in Qatar e come ho fatto appunto per Superbike e Formula 1 presentiamo calendario piloti delle tre categorie principali del moto mondiale categoria prototipi per un calendario che vede delle novità e delle cancellazioni in quanto il calendario da 22 gare originali è arrivato a 21 in un secondo anno di sperimentazione, mettiamola così, con le gare sprint che a differenza della Formula 1 saranno in tutti gli appuntamenti della stagione, quindi 21 gare canoniche moltiplicate per due fanno 42 appuntamenti dal 10 di marzo al 17 novembre per il moto mondiale che di fatto è una follia e infatti abbiamo visto l'anno scorso come tanti piloti si siano parecchio infortunati e come il moto mondiale abbia avuto una classifica finale con wildcard, sostituzioni e quant'altro di 30 passapiloti quando in realtà dovrebbero essere 22. Questa però è una mia opinione personale, l'oggettività dice che il calendario appunto ha 21 e 20 moltiplicati per due, si passa dal 10 di marzo in Qatar che torna a essere il tradizionale appuntamento stagionale e si chiuderà sempre in una circuita tradizionale per il moto mondiale ovvero Valencia il 17 di novembre. È un calendario che vede due Gran Premi italiani che sono oramai sempre gli stessi confermati, il 7 di giugno o meglio il 2 di giugno come settimo appuntamento stagionale ci sarà appunto il Gran Premio d'Italia per il circuito del Mugello che oramai è un appuntamento storico, peraltro la gara sarà nella festa della nazione italiana, mentre il secondo appuntamento italiano è il tradizionale altrettanto circuito di Misano che appunto ospiterà il 14esimo round del mondiale, ultimo in Europa prima della trasferta di fatto nel subcontinente indiano in Asia e in Australia prima poi di tornare a Valencia come chiusura appunto Misano ospiterà anche una volta il calendario del moto mondiale. Il calendario del moto mondiale che ha già visto una cancellazione, il Gran Premio di Argentina infatti per motivi politici è stato appunto tolto e non verrà sostituito, in origine infatti i Gran Premi dovevano essere 22, invece abbiamo dei possibili ritorni a cominciare dal Gran Premio del Kazakhstan che doveva già esserci l'anno scorso ma appunto il Soccer International Racetrack di Almaty non è stato ultimato in tempo, deve essere ancora omologato quindi anche questo Gran Premio ha un gigantesco punto di domanda. Altro rientro importante è un circuito spagnolo, torna il Motorland di Aragon, c'è in realtà un Gran Premio di riserva che è quello di Ungheria, il Balaton Park che già ospita la Superbike, dovrebbe ospitare anche il moto mondiale qualora appunto un'altra di queste gare in calendario dovesse essere sospesa appunto o cancellata. Questo è il calendario che sarà uguale per MotoGP, Moto2 e MotoE, andiamo a vedere quelli che sono i piloti in particolare della classe regina, una classe regina che ha avuto dei test prestagionali dove evidentemente la Ducati l'ha fatta ancora da padrone, qualche segnale di vita si è visto dalle scuderie che erano molto indietro l'anno scorso, il grande interrogativo però è uno e uno soltanto, ovvero che impatto avrà Marc Marquez che dopo una vita in onda è passato in Ducati Gresini a fianco del fratello Alex, di fatto riformando la coppia che appunto gareggiò in onda ufficiale qualche anno fa. L'uomo da battere però è sicuramente il bicampione del mondo regnante ovvero Francesco Bagnaia che appunto ha già dimostrato di avere una quadratura del cerchio molto importante in questi test, la Ducati ufficiale del team Lenovo è ovviamente la moto migliore, Bagnaia comunque non passa la storia come un pilota che brilla di talento puro ma è molto consistente, riesce comunque a metterci sempre una pezza nella maggioranza dei casi quando più conta ed è così che ha vinto il mondiale nel 2023, al netto che anche la concorrenza dopo Bagnaia si era un attimo ovviamente tolta dei punti a vicenda ma Bagnaia appunto era sempre nel posto giusto al momento giusto e anche il Ducatista è l'uomo da battere in questo campionato del mondo. Ovviamente Bagnaia avrà di contro un Enea Bastianini che dovrà evidentemente comunque riscattarsi o se non riscattarsi in ogni caso continuare il percorso di crescita che va già fatto vedere nel finale dello scorso anno, Bastianini la scorsa stagione è di fatto la corsa a metà per problemi seri di infortunio, di fatto Bastianini l'abbiamo visto di fatto da giugno in avanti e Bastianini però quando era di fatto sano è riuscito a piazzarsi nella top 10, a fare della top 5, a fare qualche podio, insomma evidentemente Bastianini può e deve continuare al completo, può essere un altro alfiere importantissimo soprattutto per il campionato Marche, e annetto che il MotoGP conta fino a una certa però appunto Bastianini può finalmente dimostrare il vero motivo secondo me in questa stagione che l'ha fatto firmare con Ducati Ufficiale l'anno scorso. Ovviamente passiamo a parlare di Ducati Ufficiali e continuiamo a parlare del Team Pramac che di fatto ha il controfavorito tecnico a questo mondiale ovvero lo spagnolo Jorge Martín, Jorge Martín ha avuto evidentemente un gran bel anno di grazia 2023, si è dimostrato effettivamente per il pilota che è, ha lottato per il mondiale quando poteva farlo, l'ha perso appunto a suo dire per una questione delle gomme inopinata da parte del fornitore unico che è Michelin in una gara nel finale di stagione dello scorso anno, io francamente non sono d'accordo perché Martín ha buttato il mondiale scorso in Indonesia quando si è steso da solo sul bagnato e quando aveva tre secondi di vantaggio e lì un pilota decisamente quadrato e tecnico non fa quegli loro lì a differenza di Pagnaia che è vero ne ha fatti in carriera ma comunque ne ha fatti molto meno rispetto a questo Martín dello scorso anno però attenzione che se Martín ha la base dell'anno scorso può essere veramente un serio pretendente al titolo del mondo il compagno di squadra di Jorge Martín è un pilota invece che si deve riscattare Franco Morbidelli dopo un anno disastroso in Yamaha ma non per colpe sue ma per il mezzo della moto Yamaha appunto che aveva passa appunto in Ducati del Team Pramac e di fatto sarà una seconda guida non come Sarko che comunque qualche sprazzo l'aveva fatto vedere anche battendo Martín Morbidelli comunque anche lui in maniera diversa come Bastonini deve evidentemente crescere altre moto ufficiali e passiamo evidentemente alla onda ufficiale una onda ufficiale che è una scuderia di relitta ma deve ovviamente riscattarsi conferma quello che resta di Juan Mir che anche lì per colpe in parte sue di poca consistenza in parte della moto che anche con Marc Marquez ha fatto una fatica incredibile ha fatto una stagione oltre in modo deludente viene affiancato da Luca Marini il fratellato di Valentino Rossi che ha tanto modo di evidentemente arrivare in un team ufficiale dopo anni in Ducati clienti alla fine arriva in un team che deve riscattarsi e Marini secondo lui e ovviamente il suo entourage è il pilota giusto per far sollevare la casa che è orfana di Marc Marquez di cui però ovviamente parleremo attenzione a KTM, una KTM che su alcuni circuiti si è dimostrata una moto assolutamente competitiva e soprattutto attenzione ai due piloti che sono stati confermati il sudafricano Brad Binder in particolare è stato il pilota che è andato meglio lo scorso anno un pilota molto aggressivo, molto spettacolare che è in condizioni di bagnato spesso si inventa le strategie alternative e spesso funzionano affiancato a un altro cavallo pazzo del motorsport ovvero Jack Peter Miller al secondo anno in KTM è un altro pilota che è maturato tecnicamente rispetto agli anni passati è meno falloso, l'anno scorso il mezzo non l'ha aiutato molto ma comunque attenzione perché Miller può essere comunque un pilota da top 5, top 10 con costanza in Yamaha anche qui abbiamo un Fabio Quartarò confermato al netto che la Yamaha per mezzi e per possibilità è l'unico team che non ha un supporto cliente a differenza di Apreglia Ducati e KTM evidentemente però la Yamaha conta sul riscatto di due piloti titolari al netto che la Yamaha dovrebbe essere fatta per Quartarò ma l'anno scorso Quartarò è stato un ectoplasma per demeriti di fatto della moto e non per demeriti suoi viene ingaggiato in Yamaha un altro pilota che invece deve riscattarsi ovvero Alex Rins che è stato l'unico a far vincere la Honda l'anno scorso in una vittoria a Austin con il team di Lucio Cecchinello quindi Honda Clienti e qui va in Yamaha ufficiale al netto che appunto Rins con una moto a posto di certo è un pilota che può dire la sua vedremo come sarà questa Yamaha che nei test ha fatto qualche passo avanti ma non ancora per far tornare ai livelli di quando Quartarò ha vinto il mondiale parliamo ovviamente del 2021 altre moto ufficiali di cui dobbiamo parlare è ovviamente l'Aprilia che ne presenta tre in particolare con il team ufficiale che conferma Maverick Vignales e Alex Spargarò Maverick Vignales è un pilota che era arrivato all'epoca con i crismi dell'anti Marquez quando Marquez vinceva alla fine si rivela un pilota importante, un pilota buono ma spesso incostante con un'ottima qualificazione e poi con delle scemature importanti in passo gara l'anno scorso non è stato più così è stato comunque un po' più costante qualche alto e basso si è visto è un pilota di fatto da top 10 con costanza il cavallo di punte in realtà è il grande veterano Alex Spargarò che comunque ha portato l'Aprilia dagli bassi fondi della classifica ai punti alti e anche alle vittorie evidentemente Aprilia dovesse avere delle chance di titolo anche se sono secondo me molto remote e dovrebbe puntare sul pilota con la carriera numero 41 c'è una terza Aprilia ufficiale ed è quella di Miguel Oliveira che di fatto rimane nell'Aprilia satellite ma appunto il team non è più l'RNF ma è il Trackhouse Racing che è lo stesso team che c'è in NASCAR ma appunto con la succursale MotoGP l'Aprilia ufficiale viene data al portoghese altro pilota molto interessante al netto che l'anno scorso ha avuto parecchi infortuni che l'hanno frenato ma di talento puro Oliveira è uno che in top 10 con costanza ci può stare viene affiancato da Raul Fernandez pilota che mi piace veramente tanto ma che appunto deve ancora fare il percorso di crescita dopo un anno di fatto in KTM clienti è andato in Aprilia clienti ha fatto comunque delle discrete prestazioni qui serve però il passo di maturità al netto che il mezzo è un Aprilia clienti di sicuro il team clienti migliore è il team Gresini per un semplice motivo evidentemente i piloti presi sono due dei migliori piloti che un team privato si può evidentemente permettere a cominciare da Marc Marquez Marc Marquez è stato il grande colpo di mercato della stagione passata da una vita in onda dove l'ultimo anno in realtà conta il giusto perché comunque in parte lui ha fatto il tra virgolette test era andando piano in parte il mezzo era quello che era ha lasciato la casa che lo ha reso vincente per arrivare evidentemente in Ducati Gresini e nei test si è già visto come Marquez evidentemente il talento non l'abbia perso Marquez evidentemente è uno dei migliori piloti dal punto di vista talentuosistico anche se non si dice in italiano di questo moto mondiale e lo si è visto anche nei primi test dove appunto è arrivato con pochi giri nelle prime posizioni come una moto vecchia perché appunto ricordo che il team Gresini corre con una moto GP23 della Desmo 16 cosa che invece non fanno il team Prama che è il team ufficiale quindi attenzione che Marquez nonostante una moto clienti può essere una brutta bestia per il titolo del mondo non so fino a che punto uno può puntare al titolo del mondo come una moto vecchia privata ma sicuramente per i primi 5 per il podio e per qualche gara nelle vittorie Marquez può essere un fattore vedi per esempio tutti i circuiti che tendono a girare verso sinistra a fianco di Alex di Mark Marquez scusatemi c'è Alex Marquez il fratello confermato in team Gresini che ha avuto una inaspettata crescita dal mio punto di vista Alex Marquez francamente per me fino all'anno scorso era un oggetto misterioso adesso un pilota leggermente più concreto e che in MotoGP evidentemente ci può stare quindi per cui giusta la conferma in team Gresini e quindi vedremo come si comporterà la coppia di fratelli che appunto ha già corso in onda ma appunto era il primo Alex Marquez che appunto appena arrivò in MotoGP con Mark che era lì per vincere poi si ruppe evidentemente a Jerez in quel tragico infortunio ha traducati clienti quella del team VR46 che cambia sponsor e quindi viene sponsorizzato una notta ditta indonesiana viene ingaggiato Fabio Di Gian Antonio che è stato il pilota e purato di fatto dal team Gresini in conto macchia di Mark Marquez poi Di Gian Antonio ha vinto delle gare ha fatto dei podi si è rimeditato la conferma in MotoGP ed è arrivato nel team di Valentino Rossi pur non essendo un ragazzo cresciuto nell'academy è un pilota che comunque può far valere anche lui delle buonissime prestazioni in qualche gara può fare degli exploit a top 10 e chissà anche da podio ha confermato anche Marco Bezzecchi che a un certo punto era anche in lotta per il mondiale poi è scemato anche lui ma comunque altra conferma importante per Bezzecchi che sfrutterà una moto molto solida perché ricordiamo che la GP23 era una moto comunque molto competitiva ci ha vinto il mondiale e ha fatto il bello e il cattivo tempo anche con Orge Martino inoltre che con Francesco Bagnaia quindi attenzione a questi piloti con la GP23 perché potrebbero recitare un ruolo molto importante in ottica titolo del mondo altre motoclienti di aprile abbiamo già detto passiamo in ordine di Wikipedia inglese parliamo della Honda di Lucio Cicchinello il team LCR ingaggia Johan Zarko come pilota di punta dopo che Zarko ha lasciato evidentemente il team Pramac Zarko comunque l'anno scorso ha avuto il merito di finalmente vincere una gara dopo tantissimi podi di fatto Zarko rimane più impazzato che un vincente ma un pilota che secondo me in questo contesto può fare bene confermato invece Takahaki Nakagami pilota giapponese ovviamente è una buona conferma ha detto che Nakagami non è uno dei fermoni anzi è un pilota che se tutto va bene può arrivare a punti con costanza attenzione per concludere al team Gas Gas soprattutto per Pedro Acosta Pedro Acosta grandissimo pilota giovanissimo spagnolo che ha dominato il Mondiale Moto 3 l'anno scorso ha dominato il Mondiale Moto 2 è arrivato in Gas Gas pronti via ha subito impressionato per velocità e consistenza corre con la KTM cliente di fatto il team Gas Gas ma attenzione perché Acosta ci ha fatto vedere di arrivare nelle prime dieci posizioni nei test di avere un passo gara molto invidiabile quindi Gas Gas con Acosta può togliersi veramente tante tante soddisfazioni è un pilota che io attenzionerò in modo molto particolare il compagno di squadra di Pedro Acosta è Augusto Fernandez Guerra che comunque è stato confermato per il ritiro di Pol Esparga Roma comunque anche Augusto Fernandez è un pilota che in MotoGP al momento ci può ancora stare questa era la categoria regina dunque 22 piloti può andare in battaglia a partire dal 10 di marzo seguendo lo stesso calendario che seguono anche Moto2 e Moto3 e parliamo della classe di mezzo che di fatto è un monomarca Kalex con qualche eccezione c'è il team Forward che appunto si autoproduce il tagliato della moto e appunto anche il team Bosco Scuro Speed Up che in questo caso raddoppia ovviamente i grandi favoriti sono sempre i soliti team a cominciare evidentemente dal team Aspar che comunque corre con marchio CFMoto e può evidentemente sfruttare un Jake Dixon in stato di grazia che l'anno scorso è arrivato nei primi 4 del mondiale affiancato da Isan Guevara pilota che ha vinto il mondiale Moto3 ma che evidentemente deve ancora fare tanta tanta strada c'è un altro team importantissimo che ovviamente è il team KTM che ovviamente fa il salto di categoria per Danny Zonku che dalla Moto3 passa appunto nello stesso team ma appunto in Moto2 e Danny Zonku si mette a posto la testa può essere un pilota comunque non dico la titola ma comunque può essere un buon outsider grande acquisto invece per il team KTM e quello di Celestino Vietti che dopo aver corso per il team Fantic ex VR46 va a uno dei team più titolati evidentemente della Moto2 e quindi attenzione che magari questo team non possa essere il salto di qualità per quanto riguarda il nostro pilota italiano un altro pilota italiano che si gioca il mondiale è sempre Tony Arbolino che viene confermato nel team Mark VDS dopo che l'anno scorso in realtà era partito benissimo ma poi evidentemente ha scemato in posizioni che di fatto non contano a fianco di Tony Arbolino c'è il ceco Philippe Salac che però non sarà un fattore in questo campionato del mondo per completezza di cronica c'è un terzo italiano che corre in Moto3 e sono appunto pochi per questa categoria e Danny Foggia che non dovrebbe avere grandi ambizioni corre come con il team Italtrans che è uno dei buoni team della Formula 1 in realtà mi interessa di più il campionato di squadra ovvero Diogo Moreira pilota brasiliano che comunque è un pilota di cui si dice un gran bene ha detto che non ha mai vinto una gara in Moto3 e ha fatto qualche podio sicuramente uno di favorito al titolo è lo spagnolo Aaron Canet che di fatto passa dal team ex Pons che si è ritirato dalla Moto2 al team Fantic Canet è arrivato nei primi tre posti nello scorso anno e può secondo me recitare un ruolo da protagonista a fianco a Canet c'è l'Andorrano Xavier Cardeluz che torna dopo anni in Moto2 altro pilota importante o meglio altro team importante per quanto riguarda il Moto Mondiale Moto2 è il team Speed Up che con le Bosco Scors che erano due piloti veramente di gran talento Alonso Lopez in primis ma soprattutto Fermino Aldeguer che l'anno scorso dopo Acosta è stato il pilota più costante che ha vinto le ultime gare quindi dovessi fare un paio di nomi sicuramente Canet sicuramente Aldeguer possono essere nomi importanti perché il titolo del mondo ricordiamo che Aldeguer è un pilota giovanissimo classe 2004 già al terzo anno evidentemente di Moto2 e quindi attenzione dovessi indicare un favorito è sicuramente il 54 Canet in seconda battuta tutti i piloti li vediamo qui in video velocemente il team MT Helmets che appunto esordisce in Moto2 schiera Sergio Garcia e il giapponese Ai Ogura il team MT Helmets appunto raddoppia del Bosco Oscuro presenti in pista quindi abbiamo di fatto tre costruttori diversi il terzo il team forward che schiera il pilota Alex Eskridge oltre che Xavi Artigas pilota spagnolo che fa il salto da Moto3 a Moto2 ma il team forward sarà nei bassi fondi della classifica il team VR46 invece ingaggia Yungu Sasaki che fa il passaggio dalla Moto3 alla Moto2 e conferma o meglio ingaggia a sua volta Jeremy Alcoba pilota spagnolo il team Mark V10 abbiamo detto il team Fatic anche parliamo del team RV Racing che schiera il pilota belga Barry Paltus insieme all'olandese Zonta Vante Gorberg di fatto line up confermata rispetto allo scorso anno il team Honda Asia schiera di fatto il pilota indonesiano Mario Agi che di fatto fa il salto dalla Moto3 alla Moto2 insieme a Som Kiat Chandra pilota che invece di Moto2 è esperto evidentemente sarà un pilota di punto del team asiatico tutti questi team che elenco hanno evidentemente il marchio Kalex teleista tedesco il team Usquarna che corre in realtà con Kalex schiera due piloti importanti e giovani in particolare Sena Agius che ha vinto dominando il Cev Moto2 insieme al fratello di Brad Binder Darlene che appunto viene confermato in Moto2 il team American Racing ha un pilota di casa il appunto talentuoso Joe Roberts pilota che secondo me può fare bene quest'anno insieme a Marcos Ramirez che appunto è confermato dallo scorso anno dalla Moto3 viene ingaggiato Kame Masia per il team Pertamina insieme all'olandese Bob Benzneider e chiudiamo la line-up della Moto2 con lo spagnolo Manuel Gonzalez affiancato ad Albert Arenas due piloti spagnoli per il team Gresini Moto2 un line-up interessante che potrebbe farsi soprattutto Gonzales pilota decisamente più talentuoso questa era la Moto2 velocemente andiamo in Moto3 una classe entrante che evidentemente sarà sempre al solito macello con tante gare evidentemente combattute qualche pilota nettamente favorito probabilmente non c'è perché comunque quelli di fatto buoni sono tutti andati evidentemente nella classe di mezzo qualcuno è rimasto sono nomi importanti li andiamo a vedere uno per uno a cominciare dai costruttori che ci sono non c'è più gas gas entra CFMoto che di fatto cambia team e per il resto abbiamo sempre Honda, Squarna e KTM partendo da CFMoto abbiamo l'esordiente Joel Esteban che appunto viene direttamente dal CEV Moto3 invece abbiamo una buona conferma quella di Davide Alonso che rimane nel Team Aspar ma appunto il Team Aspar adesso monta un teleo cinese CFMoto Davide Alonso può essere uno dei favoriti al titolo del mondo di questa Moto3 il Team Asia schiera il thailandese Tatakorn Buazri che ha già visto comunque qualche gara l'anno scorso in white card insieme al giapponese Tayo Furusato il Team Leopard sempre uno dei favoriti importanti per vincere il titolo perde Masiyama prende piloti comunque interessanti a partire dall'esordiente Angel Figueiras pilota spagnolo insieme ad Adrian Fernandez il fratello di Raul che corre in MotoGP il Team Vision Track che adesso si chiama M Love Racing per via del patrone Michael Laverty conferma i due britannici Scott Holden e Joshua White le pilota che sono esperti piccato sul bagnato ma non dovrebbero avere grandi chance potrebbero entrare facilmente in zona punti soprattutto Scott Holden il Team Snipers appunto abbandona Romano Fenati viene epurato il pilota marchigiano per limiti d'età viene comunque confermato Matteo Bertelle per quanto riguarda l'Italia e abbiamo Davide Almanza pilota che ha fatto vedere qualche sprazzo interessante l'anno scorso in viste di wild card il Team si c'è 58 squadra corse prende Filippo Farioli che è a second anno in Moto2 dopo evidentemente un anno in KTM e viene affiancato da Luca Lunetta pilota che comunque anche l'anno scorso ha fatto qualche comparsata il Team Musquarna schiera Tanzuki Suzuki che di fatto per know-how può essere sempre considerato un favorito al titolo del mondo ha detto che il mezzo non dovrebbe essere così più importante rispetto all'anno scorso ha detto che la base era buona ricordo che il Team Musquarna l'anno scorso ha quasi vinto il mondiale con Ayumu Sasaki appunto vinto però da Haume Mazia in un modo anche abbastanza controverso il pilota di punta però del Team Musquarna è l'olandese Colin Weyer che l'anno scorso ha vinto delle gare e ha comunque dimostrato una grande crescita l'altro team che elenchiamo tutti in ottica KTM ufficiale David Munoz è uno dei piloti di punta di questa Moto3 ed è confermato nel Team Boe a fianco a lui c'è l'australiano Joel Kelso il Team Chip prende Riccardo Rossi che in realtà è arrivato un po' dalla finestra in questo mondiale Moto3 perché al posto di Rossi doveva esserci Lorenzo Fellon poi appunto Rossi ha trovato un ingaggio all'ultimo minuto e il francese è stato veramente epurato viene confermato o meglio ingaggiato Noadet Willer pilota svizzera all'esordio assoluto da pilota ufficiale ovviamente in Moto3 il Team MTM conferma Yuvusei Yamanaka e prende un pilota però molto talentuoso che è Ivan Ortola che può comunque fare un buon secondo me mondiale 2024 in Moto3 il Team MTM che invece appunto conferma Stefano Nepa ma appunto ingaggia un altro per italiano Nicola Carraro dopo anni nelle categorie propedeutiche arriva finalmente al mondiale il pilota numero 10 ma appunto il pilota di punta Stefano Nepa che ha fatto comunque una buona stagione per i mezzi che aveva è stato il miglior italiano in classifica generale per una Moto3 che di base anche quest'anno con i piloti italiani non dovrebbe avere grosse chance di vincere in tutto il mondo magari qualche podio potrebbe arrivare qui e lì ma appunto l'Italia da anni nelle categorie propedeutiche delle moto mondiale categorie propedeutiche raccoglie veramente molto poco il Team KTMA prende un esordiente Jabin Zurubuza che è di fatto un esordiente che ha vinto il Cev Moto3 affiancato a José Antonio Rueda al secondo anno in questa categoria chiudiamo con il Team KTMA che appunto prende un altro esordiente dal Cev Moto3 che è l'australiano Jacob Broadstone insieme a Daniel Olgado uno dei piloti probabilmente favoriti a vincere il mondiale insieme a David Alonso insieme probabilmente a Fernandez a Weyer a David Munoz per talento insomma tanti piloti che possono darsi battaglia in un capitato Moto3 che sarà ovviamente il solito macello perché le prestazioni sono veramente minimali e bastano pochi decimi pochi millesimi a perdere posizioni c'è una quarta categoria evidentemente del moto mondiale ed è la Moto E una Moto E che però avrà un calendario ridotto rispetto evidentemente a Moto3, Moto2 e MotoGP abbiamo 8 appuntamenti di solito per 2 gare quindi 16 gare in totali dal Portogallo fino a Misano da marzo a settembre arriverà anche il campionato delle moto elettriche che presenta sempre 18 piloti che però di fatto è la terra dell'Italia perché su 18 piloti presenti 10 sono italiani e molti comunque hanno valita di titolo a cominciare dal campione del mondo in carica Mattia Casadei che va nei team appunto più importanti di questa Moto E che è il team LCR il team di Lucio Cecchinello altri piloti importanti sono sempre confermati in particolare Matteo Ferrari che appunto vinse il primo mondiale Moto E del 2019 gli altri piloti del nostro appunto team nazionale sono Alessandro Zaccone che torna evidentemente confermato in Moto E insieme a Nicolás Spinelli che ha fatto bene già lo scorso anno Kevin Zannoni che va nel team Open Bank a Spark uno dei più importanti in questa categoria Massimo Roccoli grande esperto del CIV soprattutto va finalmente a un esordio mondiale dopo aver fatto una comparsa in Moto E qualche anno fa affiancato da Kevin Manfredi che comunque è un pilota che qualcosa ha vinto in carriera in particolare un europeo di supersport gli altri italiani sono Andrea Mantovani che va nell'esordiente team forward Alessio Finello confermato come voi squadra di Matteo Ferrari e l'ultimo è Armando Pontone che appunto esordisce in un team importante che è il team Aruba di nome al netto che nei test il team Aruba ha fatto veramente fatica una line-up molto interessante soprattutto perché c'è il dragone Chad Davies che dopo anni di inattività e un'attività ovviamente lavorativa diversa dal pilota in questi anni come team manager del team Aruba evidentemente adesso va a fare ancora una volta il pilota seppur in un campionato Moto E quindi meno di know-how rispetto ad altri ma comunque vedere il dragone è sempre molto interessante gli altri piloti li competiamo velocemente Lukas Tullovic è nel team Dynavolt dopo un anno in Moto2 il tedesco torna evidentemente in questa categoria che lo vede un po' più sul pezzo rispetto alla Moto2 affiancato a Hector Gazzo altro pilota esperto di questa categoria abbiamo una donna che corre in MotoE ed è sempre la solita Maria Herrera che sempre viene confermata e fa sempre un grande piacere il campionato di squadra di Mattia Gazzadei e il brasiliano Eric Granado che l'anno scorso ha fatto molta fatica in Superbike il team MCI va a confermare Michel Pons e prende Oscar Gutierrez che era arrivato l'anno scorso in situazione di evidentemente Luca Salvadori ultimo pilota che dobbiamo elencare è sicuramente Jordi Torre è uno dei piloti più talentuosi di questa MotoE che ha già vinto due mondiali e ovviamente va per il free pit al netto che sarà molto complicato la MotoE è una categoria per quanto strana molto molto equilibrata e comunque abbiamo come detto prima tanti piloti italiani che a differenza di Moto3 e Moto2 possono puntare al titolo per numero ma anche per evidentemente adattamento a questa categoria che ci ha visto tanto protagonisti con appunto Ferrari che si dai su tutti ma anche appunto con Zannoni con Manfredi quando ha fatto dei bei podi con Mantovani con evidentemente Nicola Spinelli che ha fatto delle buonissime gare insomma è un campionato interessante che va seguito dovrebbe avere un po' più di come dire meno critica da parte del pubblico generalista e un pochino più di occhio in ogni caso ci sarà da divertirsi in un campionato che è sempre stato molto equilibrato ovviamente il campionato che conta di più è il moto mondiale vero e proprio con categoria MotoGP questi sono i piloti che partiranno a darsi battaglia il 10 di marzo in Qatar secondo voi chi sarà il favore di questo mondo mondiale 2024 fatemelo sapere evidentemente in un commento qui sotto il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video ciao a tutti